Siamo nel 2024, probabilmente sino a dieci anni fa pensavamo che nel 2024 le auto avrebbero volato e il mondo sarebbe stato un posto migliore, in realtà è successo di tutto e di più negli ultimi anni e purtroppo sta per arrivare un'altra ondata di notizie negative. Infatti se la tua unica fonte di reddito ad oggi è il tuo stipendio da dipendente sappi che sei a rischio, ma rischio davvero, nel senso che rischi di perdere letteralmente tutto e fare affidamento solo sulla tua rendita da dipendente è realmente un grandissimo rischio per te e per tutta la tua famiglia. Stiamo entrando in un'era dove quello che tu fino a poco tempo fa potevi definire lavoro sicuro in realtà non è più sicuro. Perché? Perché c'è una minaccia che incombe su tutti i lavoratori e soprattutto sui dipendenti. Il tutto con un costo della vita che aumenta a dismisura, dove se prima una Fiat 500 ti costava a esagerare 9.000 euro, oggi con meno di 30.000 euro non ti porti a casa neanche una semplice Fiat 500, dove ti costringono a cambiare auto acquistando un'auto elettrica, peccato che l'auto elettrica costa il doppio rispetto ad un'auto normale, e dove ormai pur andare a mangiare una pizza fuori ti costa lira di Dio. Ma come possiamo risolvere questi problemi una volta per tutte? Beh, lo scopriamo in questo nuovo video di Finanza Personale. Nel 2024, ahimè, i lavori da dipendente sono sempre più precari. Se prima lavorare per una grossa azienda era un grandissimo vantaggio che ti garantiva praticamente un lavoro sino all'ultimo giorno prima della pensione, oggi in realtà lavorare per una grande azienda, per assurdo, è molto più rischioso rispetto a lavorare magari per il piccolo imprenditore o soprattutto fare l'imprenditore. Ma perché? Beh, è semplice, ormai queste grandi aziende hanno accesso a una serie di tecnologie, di strumenti, di software incredibili che in maniera molto semplice possono rimpiazzare il tuo lavoro, letteralmente nel giro di due clic. Infatti, a meno che tu non vivi su Marte, avrai visto sicuramente che negli ultimi mesi le aziende stanno licenziando a dismisura. E qualora non avessi visto queste notizie, ti lascio qui qualche contenuto per farti capire che no, non sto scherzando. Parliamo di una crisi letteralmente senza precedenti. E parliamo poi anche dell'Italia, un paese che storicamente ha sempre avuto problemi di disoccupazione, con o senza intelligenza artificiale. Ma oggi, ahimè, con l'avvento di questa incredibile tecnologia, in realtà la situazione sarà ancora più drastica. Perché se anche in paesi come gli Stati Uniti, che problemi di disoccupazione li hanno sempre avuti, ma in maniera letteralmente molto più bassa, ad oggi pensate che c'è una crisi anche negli Stati Uniti. Quindi immaginatevi che cosa accadrà nei prossimi mesi in Italia, che è sempre stata il fanalino di coda dei paesi sviluppati a livello di disoccupazione. Oltre a questo, a causa dell'inflazione, i costi per produrre un qualsiasi oggetto sono aumentati a dismisura. Ed ecco perché, oltre ai licenziamenti di massa, le aziende spostano anche le produzioni nei paesi dove costa meno produrre lo stesso prodotto. E se fino a poco tempo fa un'auto italiana veniva prodotta in Italia, ad oggi un'auto italiana viene prodotta all'estero. Spesso in paesi dell'est Europa o addirittura fuori dall'Europa. È come se non bastasse, siamo solo all'inizio dell'avvento dell'intelligenza artificiale. E se già all'inizio di un qualcosa di così importante siamo messi così male, non oso immaginare nei prossimi anni come questa intelligenza artificiale lascerà a casa letteralmente milioni di persone. Recentemente, ad esempio, abbiamo parlato di come Klarna, multinazionale che fattura decine di miliardi, ha lasciato a casa migliaia di persone sostituendo tutto quello che è il suo servizio clienti con un'intelligenza artificiale. Questo ha permesso a questa azienda di risparmiare letteralmente oltre 40 milioni di dollari. Ecco perché, piano piano, Klarna sostituirà tutti i dipendenti con un'intelligenza artificiale e lo stesso faranno tutte le grandi aziende, italiane e non. Alla fine è semplice da capire. Un'intelligenza artificiale può produrre 100 disegni grafici, mentre un graphic designer chiaramente ne potrà produrre un paio all'ora. Un'intelligenza artificiale analizza meglio rispetto ad un ingegnere determinati dati e via discorrendo per tutte le varie ipotesi lavorative che vi vengono in mente. Ci sarà sempre un'intelligenza artificiale che farà quel lavoro meglio rispetto ad una persona. Quindi se prima fare l'ingegnere era la garanzia che avreste avuto un lavoro per tutta la vita, soprattutto stabile e ben pagato, oggi in realtà, per assurdo, questi sono i lavori più semplici da perdere, perché l'intelligenza artificiale letteralmente fa tutto ciò con molti meno costi e in maniera molto più efficiente, senza neanche occupare un posto all'interno di un ufficio. Oltre al fatto che milioni di persone stanno perdendo il lavoro in tutto il mondo a causa dell'intelligenza artificiale, il costo della vita è letteralmente aumentato a dismisura. Quindi molto meno lavoro, molte meno opportunità e molti più soldi da spendere per fare le stesse cose che prima facevo con la metà dei soldi. Infatti negli ultimi anni, post-pandemia, abbiamo raggiunto un'inflazione record che nessun paese al mondo ha mai raggiunto. Parliamo che per comprare un chilo di ciliegie ormai devi ipotecare una casa. E se prima i nostri genitori o i nostri nonni compravano case con estrema facilità, ormai un giovane, forse a 40 anni, può iniziare ad indebitarsi per altri 30 anni per un mutuo, arrivando così a 70 anni che forse finalmente è riuscito a pagarsi un bilocale in periferia. Quindi se prima guadagnavi 1.500 euro e potevi comprare cose per 1.500 euro, oggi il tuo stipendio probabilmente è rimasto lo stesso, ma il valore, il potere di acquisto di questo stipendio è nettamente diminuito. Oltre a questo, sempre se uno stipendio ce l'avrai ancora, per colpa dell'avvento dell'intelligenza artificiale. Ovviamente poi quelle poche aziende che hanno fatto degli adeguamenti dello stipendio per combattere l'inflazione, in realtà non ci hanno aiutato in nessun modo, perché anche se mi dai 100 euro in più a fine mese, la verità è che non è che mi cambia la vita, non è che posso farmi la vacanza dei miei sogni e non è che posso cambiare l'auto con 100 euro in più al mese. Quindi bisogna correre ai ripari. Ed è quello che hanno fatto, fortunatamente, in maniera molto intelligente, tantissime persone in tutta Italia e in tutta Europa. Persino nei paesi più sottosviluppati dal punto di vista economico, come Brasile e Argentina, si sono svegliati e l'hanno capito. Il futuro è lavorare per se stessi, dove nessuna intelligenza artificiale potrà mai rimpiazzarci, e svolgendo business che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire. È evidente che se vuoi mantenere un determinato tipo di standard di vita, di qualità, del benessere che oggi hai, e soprattutto una certa stabilità e sicurezza economica, devi fare qualcosa. Devi prendere in mano le redini della tua vita. E la soluzione più logica è quella di intraprendere un percorso imprenditoriale, che può essere principale o secondario, inteso come può essere la tua unica rendita o la rendita principale che ti fa guadagnare la cifra con la quale vivi, investi, vai in vacanza, compri l'auto che hai sempre desiderato e aiuti la tua famiglia, oppure una rendita extra da sommare al tuo stipendio da imprenditore o dipendente sino a che lo vorrai, ma soprattutto sino a che il tuo lavoro attuale reggerà. In che senso? Nel senso che fino a che la tua azienda continuerà a pagarti, non ti sostituirà con un'intelligenza artificiale, questa potrà essere una rendita secondaria. Se un domani, malauguratamente, dovesse succedere qualcosa di negativo, beh, avrai comunque una rendita secondaria che in quel momento potrà diventare, come per magia, il tuo lavoro principale. Il fatto è che per rendita secondaria non dovete pensare al vado a fare il cameriere o la cameriera di sera per arrotondare piuttosto che investo in bitcoin nella speranza che faccia di nuovo un per 10.000. No, deve essere un qualcosa che dipende da te, perché il fatto che il bitcoin salga o scenda non dipende da te. E il fatto che tu faccia il cameriere, ancora una volta, è un qualcosa di facilmente sostituibile da un qualsiasi cameriere robot. Infatti già ne esistono tantissimi, come testimoniato da questi video. E no, non sto parlando neanche di fare sondaggi su internet o scattarsi le foto dei piedi e venderle su OnlyFans. Quelle, ancora una volta, non sono rendite stabili, perché purtroppo anche mandare le foto dei piedi su OnlyFans è diventato un qualcosa di sostituibile dall'intelligenza artificiale, come testimoniato anche questa volta dall'articolo di giornale. E anche se volessi intraprendere queste strade, si tratta di soluzioni temporanee che non ti mettono al sicuro e al riparo dall'avvento dell'intelligenza artificiale, ma al contrario ti permettono di guadagnare qualcosina in più per qualche mese e poi sarai punto e a capo. Anzi, staresti letteralmente buttando il tuo tempo in un qualcosa che funzionerebbe per pochi mesi, salvo poi ritornare nella situazione originale. Quel tempo ha molto più senso investirlo in un qualcosa di stabile, di duraturo che può letteralmente crescere senza nessun tipo di rischio. Perché ricordati che anche fare il cameriere o rispondere ai sondaggi dipende da un'azienda che da un qualsiasi momento può cacciarti e sostituirti. La soluzione, come l'avrai capito tu stesso, è solo una. Devi essere il capo di te stesso. Non devi dipendere da nessuno e devi fare un business che non è attaccabile da nessuna intelligenza artificiale o algoritmo esterno. Bisogna puntare ad un business che ti permetta di guadagnare cifre extra. Non parlo di 10.000 euro al mese, ma neanche di 100-200 euro al mese. Parlo di business che ti possono far fare 2-3-5.000 euro al mese in maniera sicura e sistematica. E no, non parlo di bot, di trading, di cripto o di calcio scommesse. Parlo di un qualcosa di serio, di legato a valori imprescindibili del nostro paese. Cose che esistono da sempre ed esisteranno per sempre. Come ad esempio il turismo o altri business online che sono facilmente percorribili nel 2024 e che hanno già fatto arricchire e soprattutto stabilizzare decine di migliaia di persone. Ho infatti realizzato un video, che ti invito a visionare, che trovi qua in bio, dove analizzo quali sono i migliori business online con i quali puoi partire sin da subito senza esperienza nel 2024. Guarda il video qua in basso che trovi in descrizione e fammi sapere cosa ne pensi. Io sono Ludovico Cianchetta Vasquez di B&B Academy e mi raccomando, non perderti questa opportunità perché certi trading passano solo una volta nella vita. Non dimenticarti di iscriverti al canale, è fondamentale per supportare il nostro lavoro e per non perderti altri contenuti super interessanti come questo. Ci vediamo nel video che trovi qua in descrizione. A presto!